Si nascondeva in una villetta a Campodipietra arrestato dai carabinieri Alfonso Chierchi a boss campano ritenuto il mandante dell'omicidio di Aurelio Venditto. Dura la posizione del presidente della provincia di Campobasso De Matteis circa la questione del personale precario dei centri per l'impiego, arrestano i disservizi. Medici, infermieri e tecnici carenti negli ospedali molisani mentre il lavoro aumenta, intanto per i cittadini si allungano i tempi di attesa per essere visitati. A due anni dalla sua inaugurazione la Fondo Valle Rivolo mostra le sue criticità, avvallamenti e cedimenti strutturali rendono l'opera inadeguata. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Tieletti Molise. Apriamo con la cronaca. È stato arrestato a Campodipietra il camorrista Alfonso Chierchi, a 45 anni, di Torre Annunziata. Le forze dell'ordine lo hanno individuato in una villetta alla periferia del paese, nascosto in Molise dopo la latitanza per un permesso premio. Alfonso Chierchi è ritornato dalla polizia di Napoli. Il mandante dell'omicidio di Aurelio Vendito Lomo fu ucciso nel 1999. Nel processo in corso a carico del boss di Torre Annunziata è stata chiesta la pena all'ergastolo. Cambiamo argomento. Le problematiche relative ai centri per l'impiego e alle polemiche con la regione Molise al centro della conferenza stampa del Presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e dell'assessore Alessandro Di Labbio. All'indomani delle dichiarazioni del consigliere regionale delegato ai centri per l'impiego, Salvatore Micone, che critica i vertici della provincia di Campobasso per le molte problematiche che riguardano soprattutto i 26 lavoratori a tempo determinato impegnati attraverso il masterplan ad occuparsi di alcuni percorsi relativi ai centri, giunge la conferenza stampa del Presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, che così puntualmente ribatte all'ex assessore della sua giunta. Del consigliere Micone io preferirei non parlare perché quello che dice sono tutte bugie e non sono veritiere, che il discorso dei centri dell'impiego è molto lungo. Oggi ci troviamo nella difficoltà, nonostante il sottoscritto e la giunta si sono assunte delle grosse responsabilità, facendo delle prore che già dal 15 dicembre al 31, dal 1 gennaio e dal 31 marzo. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui un dirigente che a mio avviso non è più dirigente della provincia, ma è dirigente della regione, tant'è vero che la regione lo ha delegato anche per i centri dell'impiego di Sernia, si ostina, si rifiuta di voler fare l'impegno di spesa e di dare le direttive per quanto riguarda i profili professionali e il numero dei dipendenti perché il nostro dirigente del personale, il dottor Fratangelo, possa procedere alla stipula dei contratti. Restano le problematiche interne per una questione di ambiguità delle competenze. C'è stato un blocco, una disabilitazione di quelli che sono i PC, dovuto proprio alla non possibilità da parte dei nostri dirigenti di portare a termine, cioè di fare gli atti conseguenziali a quella delibera, all'ottima delibera della provincia, nella quale io non c'ero. Per quanto riguarda le pulizie ed altre cose, c'è un problema serio. Oggi la delega al lavoro, la provincia di Campobasso non ce l'ha più, è a carico della regione. La regione sa benissimo che deve intervenire con propri fondi, oltre ai fondi ministeriali, e deve darci le somme a disposizione. Perché? Perché la provincia, non avendo più la delega, non può più anticipare. Intanto, mentre questi 26 giovani, già in difficoltà tra proroghe e contro proroghe, non vengono pagati per il loro lavoro, si attendono alcuni riscontri giuridici. Ci troviamo in una situazione particolare. Ora aspettiamo la sentenza per quanto riguarda un vecchio ricorso per la validità o meno del concorso che fu fatto tre anni fa. Si dovrebbe pronunciare a momenti, perché già la seduta c'era stata il 4 maggio. Insomma, penso che tra oggi e domani ci dovrebbe essere questa sentenza. Ma anche quello che avevo chiesto io come provincia al giudice per quanto riguarda di decidere e dirci chi doveva fare questi contratti. Gli ospedali molisani soffrono la carenza di medici, infermieri e tecnici. Le emergenze e i carichi di lavoro sono in aumento, soprattutto nel periodo estivo, mentre per i cittadini si allungano i tempi di attesa per essere visitati. In Molise sono tantissime le persone che si vedono costrette a rinunciare alle cure mediche per gli alti costi di accesso alle prestazioni sanitarie e alle proibitive liste di attesa negli ospedali pubblici. Non va meglio per il personale dipendente delle strutture di assistenza ai quali sono negati i diritti contrattuali a causa della carenza cronica di medici, infermieri e tecnici. A dimostrazione ulteriore della cattiva gestione dell'ASREM, il pensiero della CGL, la sospensione dei ricoveri ordinari per permettere ai dipendenti di usufruire delle ferie estive. Per risolvere l'eseguità di personale nei reparti ospedanieri, il suggerimento dei sindacati, l'azienda sanitaria di Via Petrella avrebbe potuto scegliere la strada delle assunzioni a tempo determinato e rivedere l'assetto organizzativo e dei fabbisogni dei lavoratori. Ma all'orizzonte il quadro della sanità locale è ancora più incerto. Ad ottobre, infatti, giungeranno a termine le proroghe dei contratti. Come potranno essere garantite le prestazioni fino al successivo sblocco del turnover nel 2017, non è dato sapere. Per la CGL la difesa della sanità pubblica in Molise non deve passare per la svalutazione del personale della Fondazione Giovanni Paolo II, Neuromed o altre strutture. Ma l'integrazione tra pubblico e privato appare oggi un discorso ancora poco comprensibile ai più. Al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la richiesta di avviare subito il rinnovo dei contratti di lavoro, investire nelle competenze e un modello della sanità italiana che parta dal territorio. L'azienda sanitaria del Molise ha emesso un nuovo bando pubblico per quattro medici specialisti con incarichi della durata di due mesi negli ospedali della regione. Ci sono carenze soprattutto tra rianimatori e anestesisti, ma finora gli appelli dell'ASREM sono caduti nel vuoto. Gli ospedali di Venafro e Larino sono stati riconvertiti da un decreto della regione Molise dello scorso mese di maggio. Non altrettanto è stato fatto per il San Francesco Caracciolo di Agnone. Senza la riconversione del presidio di area disagiata per il nosocomio dell'Alto Molise si prospettano altri tagli di reparti e di personale sanitario. Le ultime speranze per salvare lo zuccherificio di Termoli sono appese ad un incontro fissato domattina in fabbrica a pesare sulla nuova società il fallimento decretato dal Tribunale di Larino. Si avvia a sparire lo zuccherificio di Termoli, una fabbrica obsoleta e arrugginita della quale nessun imprenditore vuole sporcarsi più le mani. Da anni lo stabilimento industriale alle porte della città adriatica non ha un mercato credibile, né investitori seri. Nelle ultime estati è venuta sempre meno la campagna saccarifera, mentre le risorse regionali si sono sprecate senza ottenere miglioramenti in grado di ridare al complesso obieticolo garanzie per il futuro. In gioco ci sono le quote dell'Unione Europea per la produzione di zucchero pari a 83 tonnellate l'anno, ma il comparto italiano non riesce più a decollare come un tempo. A tutela dei lavoratori, la politica molisana è chiamata ad intervenire per il rilancio della filiera bieticola o per la riconversione dell'azienda saccarifera termolese. Alla giunta di centro-sinistra le maestranze dello zuccherificio chiedono anche a che punto sia l'estensione dell'area di crisi non complessa al Basso Molise, ancora di salvezza per la stessa industria. I sindacati unitari, vista la situazione ormai disperata, si appellano alla classe politica per cercare tutte le possibili soluzioni che possano essere attivate con il Governo centrale per la vendita all'asta dell'azienda e a garanzia dei lavoratori rimasti. Intanto domattina in fabbrica ci sarà un ulteriore confronto per capire la situazione dopo il fallimento della nuova società con sentenza emessa dal Tribunale di Larino e alle porte pure la scadenza degli ammortizzatori sociali di metà agosto a tenere in apprezzione il personale dello stabilimento di Termoli. Presto quattro mensilità e la quattordicesima saranno erogate in favore dei dipendenti della GTM di Termoli, questo l'esito di una riunione che si è svolta al municipio della cittadina adriatica e alla quale hanno preso parte l'assessore comunale Vincenzo Ferrazzano, quello regionale Pierpaolo Nani ed il titolare dell'azienda Giuseppe Larivera. Una condizione che ha scongiurato lo sciopero indetto per il prossimo 12 luglio. E torniamo alla cronaca, furti in abitazione e in attività commerciali, arrestato una donna di Isernia mentre altre tre persone sono finite nei guai per vari reati, sotto sequestro un fucile calibro 12 e decine di munizioni. Una cinquantenne di Isernia con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona in materia di stupefacenti è stata arrestata dai carabinieri perché ritenuta responsabile di aver commesso nel recente passato furti e danni di abitazioni private e attività commerciali. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita nel carcere femminile di Teramo, però messa a custodia di armi, invece denunciato un 53enne trovato in possesso durante una perquisizione domiciliare di un fucile calibro 12 tenuto pericolosamente su un armadio alla portata di chiunque, senza così o temperare alle prescritte misure precauzionali relative alla custodia di armi. Oltre al fucile, sottoposte a sequestro anche una trentina di cartucce calibro 12. Ed ancora una pregiudicata rom ventenne è stata sorpresa dai militari nei pressi di una gioielleria di Isernia, fermata e stata accompagnata in caserma, non escludendo che la stessa fosse intenzionata a commettere qualche azione criminosa. È stata così avviata nei suoi confronti la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione che prevede il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di vieto di ritorno. Infine ad Agnone, a distanza di qualche settimana, i carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare alla competente autorità giudiziaria un trentenne della provincia di Ascoli-Piceno che in una delle ultime partite del campionato nazionale di calcio di serie D aveva invasso il terreno di gioco mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Nei suoi confronti è stata inoltre avanzata la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione che prevede il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive più conosciute come DASPO. Per il reato di rapina gravato, Marocchino 32enne è stato denunciato da un anziano di Vasto. Quest'ultimo è stato avvicinato dallo straniero che dopo un breve scambio di parole ed un contatto fisico gli ha strappato via il marsupio rintracciato dalla polizia. Il giovane ha ribadito di aver trovato il medesimo marsupio per strada di averlo consegnato ad un signore che sapeva di conoscere l'anziano così come poi confermato dai successivi riscontri degli agenti ma all'interno del borsello mancavano 30 euro motivo per il quale è scattata la denuncia. Avvallamenti, restringimenti della carreggiata e cedimenti strutturali. La Fondo Valerivo lo mostra a poco più di due anni dalla sua inaugurazione tutta la sua inadeguatezza. Ci troviamo sulla Fondo Valle del Biferno al chilometro 19 in territorio tra Castro Pignano e Oratino all'ingresso della Fondo Valle Rivolo. Nel giorno del 29 marzo del 2014 ci fu l'inaugurazione in pompa magna con tanto di taglio del nastro di questa arteria dopo 27 anni dalla progettazione iniziale. Un'arteria che collega come abbiamo detto la Bifernina al città capologo di regione attraverso contrada Selva Piana poco più di 8 chilometri sul versante ovest di Campobasso. Le prime opere sulla rivolo furono avviate nel lontano 1987 all'impresa Falcione e i lavori di completamento di un'opera monca e sulla quale urgono interventi risolutori da parte delle istituzioni per affrontare dossi, restringimenti e movimenti franos in atto che mettono a dura prova le sospensioni e gli assi delle automobili. Dopo poco meno di due chilometri ci troviamo qui proprio alle mie spalle con un gabbione di pietra inclinato dalla pressione del terreno. La carreggiata è semiostruita quindi una carreggiata ristretta nei due sensi di marcia. L'ente attuatore dell'arteria all'amministrazione provinciale di Campobasso, la Fondovalle ha avuto un costo complessivo che supera i 40 milioni di euro tra progettazioni, varianti in corso d'opera e realizzazione. Ci troviamo presso a poco a metà del percorso della Fondovalle Rivolo ai piedi dell'abitato della frazione di Santo Stefano. Strisce gialle a terra, segnali di dosso, segnali di pericolo e proprio in curva come potete notare un profondo dissesto dell'asfalto. Alternativa a Lingotte per collegare la città capoluogo alla Bifernina, la Rivolo viene percorsa giornalmente dagli automobilisti che provengono da Castrovignano, Casal Ciprano, Spinete, Sant'Ele, Naduronia, Fossalto, Pietracupa, Salcito e Trivento. Siamo ormai alle porte di Campobasso tra il capoluogo e il territorio in comune di Oratino. Qui l'automobilista deve bruscamente rallentare e scalare in terza se non vuole incorrere in problemi per una doppia S. Si è in attesa di un raccordo qui con la periferia di Campobasso ma questa situazione provvisoria da due anni è ferma. Tra i problemi principali da risolvere con urgenza per coloro che si mettono dalla Bifernina è l'uscita a Selvapiana di Campobasso. Quello che chiedono gli automobilisti è anche una rotatoria provvisoria. E due le gallerie chiuse in prossimità di Isernia sulla statale 85 Venafrana per lavori di manutenzione previsti dall'ANAS per tutto il mese di luglio. Il traffico veicolare nelle ore notturne dalle 21 alle 6 è stato deviato sulle arterie del capoluogo Pentro. L'approvazione in Senato del collegato per il settore dell'agricoltura e della pesca rappresenta per il senatore Roberto Ruta un importante strumento per il rilancio dell'economia molisana e per l'intero paese. I senatori approvano il collegato agricoltura attraverso il quale vengono introdotte importanti novità per i settori dell'agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Tale collegato, afferma il senatore Roberto Ruta, prevede la delega del governo per il riordino e la semplificazione della normativa agricola per giungere al codice unico dell'agricoltura. La delega per il completamento della razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero competente introduce alcune norme di semplificazione in materia di controlli e disciplina l'istituzione presso l'ismea della Banca Dati delle terre agricole per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di terreni agricoli con l'obiettivo di contrastare l'abbandono delle terre e prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Una situazione complessiva che interviene anche sugli strumenti per il ricampio generazionale, favorendo i giovani che si vanno ad occupare di nuove imprese, facilitandone gli impegni per la gestione dei procedimenti amministrativi. Percorsi nuovi e necessari perciò che possono mettere a punto norme limpide e chiare che siano veramente di aiuto e non motori di immensi ritardi, pregni di fastidiosissime burocrazie. Un collegato che può servire ai tanti che già operano e ai giovani che opereranno, soprattutto i murise, che necessita fortemente di ridare un senso concreto e di sviluppo alla dimensione dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, nella piena soddisfazione di quanti operano e bene sui nostri territori e sul nostro pezzo di mare. Sviluppare una grande economia attraverso le erbe. Per il Presidente dell'Associazione Vivere con Cura, Antonio D'Andrea, tutto questo è possibile. Sentiamo. Da anni l'Associazione Vivere con Cura è attiva nell'ambito della natura e delle erbe che la stessa offre e che potrebbero sviluppare una grande economia. In occasione del festival dedicato proprio alle erbe che prenderà il via domani alla Villa Musenga di Campobasso, il Presidente dell'Associazione Antonio D'Andrea ha spiegato i dettagli di alcune iniziative. Da 31 anni è nata l'Associazione Vivere con Cura a Milano, che è una scuola di vita ecoconviviale dove ognuno e ognuna, a qualsiasi livello culturale e istituzionale, può trasmettere i propri saperi. Dieci anni fa da questa scuola a Milano, ma poi si è trasferita la casa madre a Capracotta, è nata in particolare la scuola di raccoglitrici di erbe, tutto sulle erbe spontanee, perché dopo l'agricoltura biologica, le agricolture biologiche, gli orti biologici è rimasto vuoto questo spazio, cioè tutta la cultura, i saperi pratici sulle erbe spontanee, che sono ricche di nutrienti e possono essere utilizzate in mille modi da chiunque, per cui a costi zero è il Molise e la regione forse ideale per sviluppare questi saperi, ma anche un'economia, una grande economia in cui si coniuga, come dire, le produzioni conviviali con una piccola e media industria di qualità ed ecologica. Dopo questi quattro giorni a Capracotta delle nuove iniziative, quali? Ci sarà per la prima volta cinque settimane di fila, tutto sulle erbe spontanee, a partire dal riconoscimento e la raccolta. L'abbiamo chiamato Expo 2016, Expo sta per erbe spontanee. L'Oasi Lipu di Casacalenda si arricchisce di un museo naturalistico realizzato nel cuore di Bosco Casale. Il museo mostra le caratteristiche della flora e fauna locale durante tutte le stagioni dell'anno e di parti interattive per scoprire le abitudini degli animali dei boschi circostanti. Passiamo ora alle previsioni del tempo. Nuvoloso il cielo sul Molise, con temporali sparsi pomeridiani nelle zone montuose, miglioramenti atmosferici a partire dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 20 gradi di Campobasso e la massima di 31 gradi a termoli. Ventilazione settentrionale, calmo il mare Adriatico. Domattina sulla regione tornerà il sole, valori climatici stazionari, venti da nord. Sarà un campionato di Serie D ambizioso per il nuovo Campobasso targato Raffaele Novelli. Il tecnico salernitano subentrato a Massimiliano Favo. La società Rosso Blu è pronta ad allestire una compagine giovane ma di tutto rispetto. Intanto tifosi e dirigenti sono in attesa dei lavori urgenti per aumentare la capienza dello stadio di Selvapiana e per l'apertura del nuovo parcheggio auto. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.